assemblee dei cittadini e giurie popolari si tratta di due organi che sono caratterizzati da uno stesso elemento ovvero la capacità di attrarre delle persone ma in un modo totalmente casuale quindi le persone che partecipano a questa assemblee sono estratte a sorte è un qualcosa che possiamo fare anche in italia è un qualcosa che stanno facendo in europa ne parleremo tra poco con serena si leoni vice direttore dell'istituto bruno leoni serena noi siamo abituati al concetto di una democrazia che ci rappresenta ma che ci rappresenta attraverso un voto quindi noi votiamo eleggiamo dei partiti dei rappresentanti insomma dipende dai territori dalle leggi elettorali che cambiano abbastanza spesso però noi siamo abituati a far fare le nostre leggi a delle persone che pensiamo siano state elette da noi però ecco negli ultimi tempi in irlanda in francia in diversi paesi si stanno avviando delle sperimentazioni di di sorteggio dei cittadini che partecipano alla scrittura di leggi alla riforma di codici insomma delle cose molto importanti uno è successo in irlanda con la riforma del codice di famiglia e in francia da poco macron ha avviato un processo sperimentale nel quale sono stati estratti dei cittadini che parteciperanno a delle assemblee pubbliche di orientamento e di decisione sui temi ambientali che cos'è tutto questo c'è una storia perché io so che è anche un qualcosa che abbiamo visto in passato persino in italia se non sbaglio e funziona non funziona il sorteggio è una modalità di selezione delle persone che debbono prendere una decisione che sia politico che sia giudiziaria che non è non ha una razionalità rappresentativa a caso a caso è una cosa buona è una cosa cattiva una cosa opportuna un'opportuna al solito la risposta è dipende non è una risposta per sfuggire alla domanda ma è così è stata una cosa buona in passato monteschi dice per esempio che il sorteggio è l'unica forma di selezione compatibile con la democrazia la forma di selezione politica maggiormente compatibile con la democrazia una frase che oggi ci farà brividire eppure monteschi è il padre della democrazia come la concepiamo noi oggi ci sono state forme di stato e epoche in cui il sorteggio era una pratica era la pratica democratica nell'antica grecia per esempio o in italia appunto te dicevi nella nella nostra penisola nell'italia che non era ancora italia nella venezia dei doggi o nella firenze di lorenzo il magnifico vigevano dei sistemi in realtà molto complessi ma dei sistemi che in fondo erano sistemi stococratici cioè sistemi di selezione per sorteggio di coloro che dovevano prendere le decisioni noi abbiamo completamente non solo superato ma anche stigmatizzato l'idea noi moderni l'idea del sorteggio come qualcosa di antidemocratico perché a un certo punto della storia con l'affermarsi proprio della democrazia rappresentativa abbiamo ritenuto che la democrazia rappresenta la democrazia in realtà necessita di una selezione dell'elite di un elite di competenti di esperti oggi diremmo di professionisti della politica che è il contrario della soluzione randomica cioè della scelta a caso quindi a un certo punto della storia che se vuoi si può individuare tra la rivoluzione soprattutto nella rivoluzione americana si è data vita proprio a un'idea di rappresentanza che è completamente opposta rispetto a quella randomica e quella randomica è stata proprio marginalizzata come un'idea assurda in italia non c'è nulla di in italia ci sono ci sono forme di sorteggio sulle decisioni per le decisioni giudiziarie per i reati per esempio cioè ci sono delle composizioni che hanno una componente appunto stococratica randomica di giurati popolari ma per esempio la messa è stata il processo che è un processo del tutto particolare che segue alla messa è stato d'accusa del capo di stato quindi del presidente della repubblica per i suoi due unici reati propri cioè altro tradimento attentato alla costituzione è un processo che è deciso dalla corte costituzionale in composizione integrata con cittadini comuni che vengono estratti assorte da una rosa di nomi che ha il parlamento una rosa di nomi che ha il parlamento quindi noi non potremmo esserci in cui ci potremmo essere il parlamento fa periodicamente dovrebbe fare un suo elenco con il requisito di essere elettori alla camera dei deputati quindi maggiorenni di 18 anni nel pieno del godimento dei diritti politici da quella rosa di nomi vengono estratti assorte dei cittadini comuni che integrano un organo estremamente specializzato estremamente autorevole come la corte costituzionale per discutere i reati presidenziali cioè attentato alla costituzione altro tradimento non abbiamo situazioni di sorteggio per decisioni politiche per decisioni politiche no però si sta discutendo questa idea non tanto per il parlamento per quanto sarebbe interessante pur nelle sue forme paradossali immaginare una soluzione del genere e non è nemmeno così realistico po di anni fa per esempio ci fu una proposta di legge nel regno unito per trasformare la camera alta la house of lords che oggi è di nomina regia in camera di estratti assorte ci sono delle proposte ogni tanto in giro per il mondo e forse appunto se ritorniamo alle origini della democrazia e ci rendiamo conto prendiamo consapevolezza delle distorsioni della democrazia rappresentativa come oggi forse non sarebbero considerate così folli ma al di là di questo ci sarebbero c'è la possibilità di soluzioni randomiche per ambiti più circoscritti meno politici se vuoi del parlamento per esempio per gli organi di autogoverno perché il csm deve essere letto su basi correntizie che non sono altro che affiliazioni politiche oggi ogni partito dice io metto due quell'altro ogni corrente interna la magistratura lottizzato ogni corrente interna la magistratura no è fondamentalmente è un'elezione che ricalca correnti di politiche allora per organi di autogoverno che hanno uno scopo molto preciso uno scopo definito dove si deve decidere della sorte dei propri omologhi perché non introdurre un sistema randomico come effettivamente forse più garantista nei confronti della imparzialità rispetto ad altri meccanismi più tipicamente elettorali anche perché se chi deve essere controllato si sceglie i controllori sicuramente qualche qualche cortocircuito si crea e questo accade anche negli organi delle partecipate nella politica locale questo tipo di elementi sorgono spesso quindi chi deve controllare è nominato da chi da chi deve essere controllato questo sicuramente potrebbe essere una bella sfida ecco analizzare magari fare una proposta di elezione randomica di alcuni organi parlavamo di organi nazionali ma magari ci sono anche degli organi locali che potrebbero avere beneficio ci sono anche dei matematici che stanno studiando dei modelli di selezione randomica effettivamente forse non serve andare troppo lontano o studiare poi così tanto per capire che forse qualche errore nella selezione della cosiddetta classe dirigente o dell'elite come dicevi giustamente prima insomma qualcosa si è inceppato noi siamo ancora giustamente figli dell'idea che la democrazia rappresentativa quella in cui si delega il potere a una ristretta cerchia di persone sia il modo migliore per garantire la bontà delle decisioni pubbliche ma questa ipotesi è stata formulata in un periodo storico in cui era veramente elitario il discorso democratico oggi che è invece un discorso di massa e che quindi anche la manipolazione del consenso elettorale soprattutto con i mezzi di informazione di comunicazione contemporanea è una realtà vera vivida effettivamente qualche domanda sulla selezione della classe politica sulla bontà dell'attuale selezione della classe politica sorge e può ritornare utile pensare che possano esistere alternative rispetto a quella tradizionale del voto e della delega di potere. Siamo curiosi anche di sapere che cosa ne pensano i nostri ascoltatori quindi io lascio questa domanda è una possibile via per una riforma dei nostri sistemi democratici lo ascolteremo e magari ne discuteremo anche nelle prossime puntate ci sentiamo e ci riascoltiamo nella prossima puntata di questo podcast